Ciao a tutti bentornati sul mio canale sono qui oggi per parlare di una nuova notizia di calciomercato prima di tutto però volevo ringraziarvi per appunto il successo che sta avendo la serie del format del calciomercato quindi grazie grazie di cuore a tutti prima di parlare di questa notizia di calciomercato appunto vi chiedo di lasciare un bel mi piace, un bel commento e iscrivetevi al canale allora Federico Baschirotto sarà un nuovo giocatore del Lecce se ne stavo parlando da tanto tempo più di una settimana ma finalmente oggi arriva l'ufficialità arriva non in prestito ma a titolo definitivo contratto triennale con opzione per un possibile quarto anno e contratto da 350.000 euro a stagione analizziamo un po' il profilo del calciatore per capire come sempre se è convenuto puntare su di lui oppure no quindi Federico Baschirotto un difensore classe 1996 l'anno scorso era in forza all'ascoli 31 presenze e 4 gol lo scorso anno in serie B tra l'altro questi 4 gol segnati nel girone di ritorno da febbraio in poi è un difensore utile perché può fare e ricoprire tutti i ruoli della difesa quindi può fare terzino sinistro, difensore centrale e terzino destro che sicuramente è il suo ruolo principale quindi viene per fare la riserva dice André è vero ci sarebbe anche Calabresi ma ragazzi io credo che a questo punto Calabresi andrà via e mi dispiacerebbe tanto perché è un ragazzo che merita molto la serie A l'ho detto anche in vari video precedenti ma potrebbe essere anche un'idea schierare la ruota centrale qualora ci fosse la necessità perché ricordiamolo ragazzi ci sono dei marketuia che fisicamente non so se reggerebbero al 100% tutto l'arco del campionato a maggior ragione adesso arriva Maximo che c'è un altro che fisicamente non è che sia proprio al top e quindi serve un difensore giovane che potrebbe essere Baschirotto magari mi sbaglio e sarà una scoperta me lo auguro assolutamente anche perché hanno visto del valore, del talento nel calciatore altrimenti non l'avrebbero puntato con l'acquisto di Baschirotto credo che la difesa sia al completo perché sulla fascia sinistra ci sono Frabotta e Gallo centrale appunto Tuglia, Dermacu, Maximovic e qualora ci fosse la necessità Baschirotto terzini destri, Jean Drey, per ora Calabresi è lo stesso Baschirotto quindi secondo me non arriverà altra gente quello adesso che serve è il portiere e c'erano due nomi Falcone e Scuffè ma Falcone non arriverà perché c'è lo Spezia e anche il Pordenone che vorrebbero il calciatore anche se io credo che andrà lo Spezia in Serie A e lei ci sta puntando fortemente su Simone Scuffè per quanto riguarda il centrocampo secondo me dovrebbe arrivare un altro centrocampista in attacco invece per ora c'è appunto Colombo si si è Pabllo Triguez io vorrei sostanzialmente un'ala sinistra un esterno sinistro perché Di Mariano secondo me pure lui andrà via e rimarrebbero quindi gli Stoschi che dovrebbe fare il titolare non lo so io prenderei una punta da Serie A e un esterno sinistro e poi secondo me la squadra è completa per poter giocarci questa salvezza ragazzi ci sentiamo in un prossimo video forse le c'è sempre e buona giornata a tutti voi ciao grazie a tutti